In pochi minuti saremo in volo, il tempo di volo per Roma sarà di 45 minuti quest'oggi, le condizioni meteorologiche, parte questa prima fase di salita dove il cielo è un po' nuovo voloso saranno buone, così anche a destinazione, un po' nuovo voloso attualmente è una temperatura di 12 gradi centigradi. Grazie per la nostra canzone via Roma, buona giornata. Le что, apprezzate a non ricoperti 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 a che si… And the flight time today to Roma will be 45 minutes. Iai weather supported fairly near the cruise and we're in Rome where the ground temperature is now 12 degrees centigrade. Thank you for your attention. Have a nice day. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti